Ciao a tutti, sono Trucce Baldatti, malato mentale, come voi vedete. Oggi vi voglio dire una cosa molto importante sul fatto da quando ho iniziato ad essere ingrassato, ad essere grasso. L'unica cosa è stata quando io guardavo i cartoni animati, tipo i Simpson, tipo Homer, il padre di Bart, voleva ingrassarsi, voleva essere 100 kg, più di 100 kg. Dopo questo è stato iniziato tutto questo che io volevo ingrassare. E' stato circa, quando avevo 8 anni, 7 anni, volevo ingrassarmi di brutto, volevo mangiare tanto. Nonostante tutto questo è diventata, diciamo, il cibo una dipendenza. Una dipendenza anche, soprattutto, il mangiare. Come mai, quando mi dicono qualcosa sul mangiare, io mi incazzo? Mi arrabbio, cominciò... Beh, che è diventata una sostanza come una droga. Quindi, se mi parlate del mangiare, io mi incazzo come una iena, mi incazzo di brutto. Tuttavia, voglio dirvi che in tutto questo c'è molta situazione che quindi io ho la sindrome metabolica. Che io, quando mangio, io mi ingrasso. Tutto questo, voglio dirvi che è difficile calare di peso. Io, gente, io non mi sono mai mosso nella mia vita. Mai ho fatto attività. Ho fatto pochissime attività, ma quando ne avevo voglia di fare attività. Non mi sono mai appassionato di sport, tipo calcio, basket, palavolo, corsa. Non so come cacchio, perché io ho problemi con le gambe. Perché non è per il peso che possono dare dei problemi alle gambe, la circolazione delle gambe, la cartilaggine. Tuttavia, voglio dirvi che è difficile, tuttavia. E nonostante questo, io mai ho controllato la fame. Mai. Io, quando avevo un buco di fame, subito volevo mangiare. E mi viene già fame. Se io non ho questo buco di fame, a me mi viene da mangiare. Cioè, anche di più o di meno. Quello che è. Però comunque il fatto che è così, ragazzi. Non c'è altro da dire. Io, fin da piccolo, con il mangiare, poi anche con i famici che prendevo, che aumentavano l'appetito, mi facevano ingrassare. Io ho questo problema qua della sindrome metabolica. E soprattutto il fatto che io, nel 2011, ho fatto l'intervento chirurgico, bypass gastric, l'aparoscopia. Sono calato un bel po' di chili. Però dopo li ho ripresi su tutti per causa dei farmaci, psicofarmaci, che mi diedero al centro assolutamente mentale. Tuttavia voglio dirvi che è difficile calare di peso, mentre prendi quei farmaci, ti aumentano l'appetito, ti mettono la fame nervosa, ti fanno ingrassare, non sai come fare a muoverti, ti tocca di aver fame, avere degli attacchi di fame. E io so cosa vuol dire, ragazzi. Io non so se la caliprazina, il reagila, o il prodin, o la bidify, o che cacchio è, mi possa dare un aumento d'appetito. Io non so più come dire le cose. Io soprattutto, io ho vari farmaci, ho provato, tipo il seroquel, tipo la quetapina, il quenteax, poi l'urasidone, il secret, quelli mi davano una botta di fame e mangiai come un maiale. E soprattutto, lo stomaco si è allargato. Prima ce l'avevo così, adesso si è allargato assai, così. Però c'è dentro una cucitura, che bypassa dall'intestino. Comunque, con tutto questo, voglio dirvi che è veramente un dramma, a questa cosa del mangiare. Nonostante che, nonostante che io non mi muovo, non riesco a controllarmi con la fame e l'appetito, tutto questo fa sì che è difficile. Io capisco, non riesco a fare, faccio fatica a fare colazione, una colazione, una colazione, voglio dire, un pranzo e una cena. Queste tre cose, come voglio mettere in un obiettivo. Nonostante tutto questo, ci sono anche i fuori pasto, come gli spuntini, lo spuntino del mattino e la merenda del pomeriggio. E una seconda colazione a quando mi sveglio. Nonostante che, io cerco di evitare le schifezze, le cigi spazzatura e anche, soprattutto, vivite dolci, vivite gasate, voglio dire, che sono anche dolci, ovviamente. e nonostante che, cerco di mangiare, come questa settimana che ho mangiato solo il secondo, ho evitato la pasta semolata, tipo la pasta al uomo, pasta semolata, tipo pasta al pomodoro, pasta al pesto, sempre sui 70 grammi, a pranzo, perché ho esagerato troppo che i carboidrati, i primi di giugno. E allora, tutto questo fa sì che io, nonostante io prendo la metformina, mille milligrammi, le lascio prolungate, lo prendo alla sera, nonostante che io ho problemi di glicemia, nonostante che poi ho il rischio che mi venga il diabete, tipo 2, e io quando mi vengono, non so, per me saranno anche i dolci che mi fanno incazzare, mi fanno arrabbiare, mi danno delle crisi di nervi che mi fanno incazzare, e nonostante che questo fa sì che la glicemia che mi fa incazzare, mi fa arrabbiare, dentro uno squilibrato. tuttavia, voglio dirvi che è difficile uscire da questa situazione, lo zucchero chiama zucchero, e i carboidrati chiama i carboidrati, e tutto questo mi fa venire più voglia, più mangio dolciumi, io mi incambio, mi viene dalla glicemia, mi da un brotto di glicemia che mi fa incazzare di brutto, e tutto questo fa sì che tuttavia mi fa venire il nervoso, la rabbia, la schistofrenia, tuttavia, voglio dirvi che tutto questo io me ne sono rotto il cazzo di questo cibo di merda, vorrei avere una vita sociale, vorrei avere quello che voglio avere, non me lo fregamo più del cibo, voglio dimagrire, e tutto questo. Nonostante da piccolo con il cibo è stata una tragedia perché io mangiavo con rabbia, anche per disperto, ma ero piccolo ovviamente, e soprattutto quando mi arrabbiavo, ciao, mi mangiare delle quantità enormi di merendine, di roba così da piccolo, parliamo da piccolo ovviamente, adesso non le faccio più, sto attento perché riesco a ragionare ovviamente in certi momenti non esagero con l'intelligenza e voglio dirvi che è difficile uscire da questo tutta questa pancia che ho addosso, tutto quel peso che ho addosso, è difficile molto, però l'unica cosa che voglio fare è adesso presto uscirà un nuovo farmaco, così mi hanno detto, mi hanno specificato sulla rivista aerone, un farmaco che possa eliminare questo cazzo di malattia che ho, l'obesità, e non certo sarà questo farmaco il saxenda, semagrutide, ci saranno altre cose nuove che io possa prendere per alleviare la fame nervosa e avere meno fame, tuttavia quando mi vengono degli attacchi di fame è difficile controllarsi, dico la verità, però comunque grazie per l'ascolto e grazie per tutto quello che mi è capitato, ovviamente io c'ho queste cazzo di cose qua, anche qua, ovviamente, anche qui, questa è tutta la cantosi e anche il fatto dello stress, la cantosi che crea la glicemia, l'insulina e mi crea questi problemi qua di diabete tipo 2 che già la fermo con la melformina come ho già ripetuto, mille milligrammi rilascio prolungato. Tutto questo voglio dirvi ragazzi ci vediamo presto e spero che questa obesità di merda la elimineranno per tutto il mondo. Un saluto Trucce Baldazzi malato mentale.